Grazie, ringrazio Andrea per l'inviso e per la splendida ospitalità e cercherò di insinuare un dubbio nella giuria su quello che si può fare per la selezione degli spermatozoi, illustrando tutto ciò che non si può vedere o che non si può sapere di un eiaculato con le tecniche ad oggi disponibili. Quindi, anche se il compito chiaramente che mi è stato dato non è poi così semplice, ma quello che noi vogliamo fare è appunto mimare ciò che succede durante il passaggio nelle vie genitali maschili, quindi la maturazione successivamente soprattutto nelle vie genitali femminili, dove lo spermatozoi subisce notevoli modificazioni che lo rendono capace di fertilizzare un'ovocita. E solo gli spermatozoi migliori saranno selezionati appunto per poter partecipare al processo di fecondazione. Quindi ci possiamo chiedere se è possibile riprodurre in laboratorio ciò che avviene in natura, ciò a cui noi miriamo per fare una fecondazione assistita. A questo scopo e soprattutto, visti anche i grossi limiti, le restrizioni imposte dall'entrata in vigore della legge 40 del 2004, sia gli embriologi, biologi e i clinici, hanno cercato di identificare dei markers della qualità dei gammesi, ne abbiamo sentito adesso parlare per quanto riguarda gli ovociti e anche degli spermatozoi, che fossero predittivi di un buon sviluppo embrionario. Però dobbiamo anche chiederci se i markers su cui puntiamo per la selezione dei gammesi, in particolare per la selezione degli spermatozoi, sono davvero quelli idonei a garantirci la scelta dello spermatozoo migliore. Perché quello che facciamo rutinariamente è di sottoporre questi spermatozoi a delle tecniche di selezione, di base, che è penso quello che facciamo tutti noi nei laboratori di fecondazione assistita, mediante il SWIMAP o la migrazione ascendente, dove chiediamo agli spermatozoi migliori di nuotare verso l'alto e appunto di poter essere recuperati come una frazione mobile e morfologicamente buona, di buona qualità. Oppure al contrario stratifichiamo gli spermatozoi su un gradiente di percol, che appunto li separa in base a questo gradiente, eliminando tutte le possibili contaminazioni. E qui recuperiamo spermatozoi morfologicamente normali, che riescono a passare attraverso le varie frazioni del percol e quindi anche mobili. La scelta sulla tecnica per la selezione dei gameti, su che cosa si basa? Si basa sulla nostra esperienza dell'analisi del liquido seminale. Innanzitutto tutti noi facciamo un semplice spermiogramma, uno spermiogramma che si basa sulla valutazione di parametri standard in accordo con dei parametri internazionali dettati appunto dal WHO nel 1999. Quindi tutti eseguiamo delle procedure standard di primo livello, che sono il semplice spermiogramma eventualmente associato a un test di vitalità, soprattutto in quei casi in cui il campione seminale è caratterizzato da una grave ipomotilità. Quindi vogliamo sapere se quegli spermatozoi immobili sono anche vitali oppure no. Se questo non basta, dovremmo passare a dei test di secondo e di terzo livello. E qui ce ne sono molti elencati che ci possono dare delle indicazioni sulla qualità di questi spermatozoi che andremo ad analizzare. Alcuni sono abbastanza difficili da eseguire rutinariamente, altri eventualmente possono essere più facilmente eseguibili se ci sono le competenze nell'ambito dell'equip o nelle vicinanze dei centri che eseguono questo tipo di procedure. Io mi soffermerò su quello che tradizionalmente è la nostra esperienza, cioè sull'analisi al microscopio elettronico, sullo studio genetico della FISH e non poteva mancare lo studio della cromatina nemaspermica perché tutti i giorni è stato al centro dell'attenzione. Quindi, lo spermiogramma, abbiamo detto, cosa andiamo a valutare? Vogliamo sapere intanto la concentrazione, la motilità, il tipo di motilità e la morfologia degli spermatozoi che andiamo ad utilizzare. E quindi, diciamo, questi parametri sono normali o in rapporto a dei parametri standard oppure, diciamo, che non sono normali. Ma anche quando diciamo che un eiaculato, secondo noi, è normale, questo non vuol dire, come abbiamo anche già detto nei giorni precedenti, che necessariamente sia correlabile ad una fertilità. E questo anche per l'alta variabilità dei fattori che possono modificare i valori dello spermiogramma anche spermiogrammi eseguiti in tempi abbastanza, in intervalli di tempi abbastanza ristretti. Inoltre c'è la necessità che l'operatore che esegue gli spermiogrammi abbia anche una notevole esperienza perché sono cellule molto variabili nella forma e nella funzione, nella morfologia soprattutto, rispetto magari all'ovocita che è più facilmente classificabile. E quindi bisogna essere bravi a capire quelle indicazioni per cui devo fare delle indagini più approfondite prima di decidere che tipo di selezione fare e appunto poi eventualmente indirizzare il soggetto, il paziente a quel certo tipo di tecnica di fecondazione assistisa. Quello che possiamo fare è di andare a vedere come sono fatti al loro interno questi spermatozoi e questo ci può chiarire dei dubbi diagnostici scaturiti dallo spermiogramma. Quest'indagine è molto utile soprattutto in certi quadri patologici dove possiamo evidenziare delle carenze ultrastrutturali dello spermatozoo e quindi orientare la diagnosi per esempio evitando delle terapie inutili in soggetti in cui ci sono delle patologie dello spermatozoo irreversibili. Il microscopio elettronico è caratterizzato da un elevato potere di risoluzione che è appunto la capacità di distinguere due punti che sono vicini che è direttamente correlato alla lunghezza d'onda della sorgente luminosa, in questo caso degli elettroni. Da non confondere con l'ingrandimento. L'ingrandimento è il fatto di vedere una cosa sempre più grande ma questo non vuol dire aumentare il potere di risoluzione che sono due cose che sono nettamente distinte. Mediante questa metodica noi possiamo distinguere due tipi di difetti che probabilmente non sono così ben evidenziabili da nessuna delle tecniche di selezione o deliminabili da nessuna delle tecniche di selezione che utilizziamo. i difetti cosiddetti fenotifici cioè quelli secondari a patologie che affliggono in quel momento l'individuo che interessano sempre una porzione variabile della popolazione spermatica e che possono anche essere sensibili a terapie farmacologiche o chirurgiche come abbiamo sentito anche nelle relazioni precedenti. Invece dobbiamo anche conoscere l'esistenza di difetti genetici cioè genotipici li abbiamo così chiamati perché sono dei difetti monomorfici che si ripetono costantemente che interessano l'intera popolazione spermatica e che non possono essere trattati inirrisolti da nessun tipo di terapia. Questi soggetti abbiamo dimostrato alcuni anni fa essere molto significativamente più frequenti in soggetti sterili, fratelli sterili o individui sterili figli di genitori consanguinei. Questi sono i principali difetti fenotipici che abbiamo raggruppato in tre grandi categorie che sono l'immaturità, la poptosi e la necrosi. Questo tipo di patologie colpiscono soprattutto il nucleo dello spermatozoo in particolare per l'immaturità e anche per la poptosi qualche volta perfettamente compatibili con una buona motilità spermatica. La necrosi chiaramente prevede una degenerazione completa della cellula, della membrana e quindi gli spermatozoi non sono neppure mobili. In un lavoro che avevamo pubblicato qualche anno fa eravamo andati a vedere come queste patologie spermatiche si presentavano in un eiaculato prima, in una serie anzi di soggetti analizzati, prima e dopo selezione mediante sui map. Vediamo come soprattutto l'immaturità e anche l'apoptosi, le caratteristiche apoptotiche non cambiano nel seme selezionato dopo sui map, quindi permangono a far parte del pool fertilizzante degli spermatozoi, di quello che noi andiamo a usare nella fecondazione assistita. I difetti genotipici. I difetti genotipici forse sono meglio evidenziabili, anche se sono molto più rari.